Sarda di Nuoro, quinta di sette figli e di una famiglia benestante, Grazia Deleda è l'unica scrittrice italiana ad aver ottenuto il premio Nobel per la letteratura. A Grazia Deleda in Sardegna sono dedicate scuole, piazze, strade, premi letterari, una fondazione. Collaborò anche con il nostro giornale, con l'Unione Sarda, che di recente ha riproposto tutta la sua straordinaria opera. Si era trasferita, dopo il matrimonio, a Roma, ma i luoghi della sua vita in Sardegna fanno parte di un percorso turistico-culturale che vale la pena di essere visitato. Grazia Deleda può essere ascritta al verismo che tanto importante fu nell'Italia tra l'Ottocento e il Novecento. Nelle sue pagine c'è la Sardegna, ma nelle sue pagine in generale c'è il sud dell'Italia. Pagine fatte di sofferenza, pagine fatte di voglia di riscatto, ma anche di gioia legate ai piccoli casi, alle piccole situazioni della vita. Vi consiglio tra i tanti di leggere Elia Sportolu e mi permetto di suggerirvi, se riuscirete, di visitare a Nuoro la Chiesetta della Solitudine, sotto il suggestivo Monte Ortobene che ospita le spoglie mortali di Grazia Deleda. Grazie a tutti.